Allora oggi c'è un giorno di mercato per cui non possiamo vedere la parte più bella però questo è uno dei primi pezzetti di abitazioni operai e cooperative realizzate nell'Italia moderna. Negli anni 80 dell'800 allora si chiamava il consolato operaio che riuniva la maggior parte delle società di mutuo soccorso di Milano, aveva realizzato questo pezzettino di quartiere che non era un'edilizia filantropica fatta da società per soccorso, l'aiuto dei poveri ma era un esempio di auto-organizzazione operaia. Quindi questa aria che ha ancora oggi che è passato molto tempo è diventata una zona ricca così però ha quest'aria un po' festiva, un po' domenicale che penso che sarebbe piaciuta molto a Collin Ward e alla sua idea di abitare un po' dell'arcadia quotidiana cioè di una certa lietezza e atmosfera calda prodotta da un'attività comunitaria che trasforma i luoghi e crea l'abitato umano. Perché abbiamo fatto questo libro di antologia di scritti di architettura e di urbanistica di Collin Ward? Una prima ragione è senz'altro il fatto che le discipline dell'architettura e dell'urbanistica non dialogano da tanto tempo con i cittadini, con le persone comuni, c'è questa incomunicabilità fortissima e fra le poche figure che nel novecento è stata capace di intrecciare questi due mondi separati, vedere l'architettura dal punto di vista della vita quotidiana e contemporaneamente vederla con un occhio però competente e non generico è proprio Collin Ward. Questo anche forse perché lui stesso non era un architetto, era un autodidatta che ha attraversato il campo dell'architettura e dell'osservazione della città in molti modi diversi a partire da lavori pratici, ha lavorato da giovanissimo, abbandonando la scuola a 15 anni e si è trovato a lavorare come disegnatore in studi di architettura dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale a Londra, quindi occuparsi di attività molto prosaiche di misurazione, disegno e ricostruzione di fabbriche e case danneggiate. Questo sguardo molto concreto sull'architettura e a partire dalla vita quotidiana lui se l'è portato poi avanti per tutta la vita e questo libro è un'antologia lungo quasi mezzo secolo di scritti su questi temi. C'è un immaginario del pensiero libertario sui temi dell'architettura e della città che è un po' impoverito, un po' appiattito sui temi dell'occupazione delle case sostanzialmente, sembra che ci sia poco altro. Ecco Colling Ward invece è la figura che forse ha saputo riassumere e portarsi dietro e rivolgere al futuro in chiave contemporanea la ricchezza, la profondità, la generosità del pensiero libertario sui temi dell'architettura, dell'abitare e della città. Un'altra ragione per cui valeva la pena di mettere insieme questi scritti, una piccola rappresentanza di questi scritti sull'architettura, il paesaggio e l'urbanistica di Colling Ward è che lui sicuramente è stato anche qua riscoprendo e aggiornando un filone del pensiero libertario che appunto fa capo a Kropotkin e ad altri, ha saputo mettere al centro i temi e intrecciare con quelli dell'architettura e della città i temi dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecologia, vedendo tutto questo come un tema unico già negli anni 50 e 60 quando questo per esempio all'interno delle discipline specifiche dell'architettura era un tema completamente sconosciuto. Questo intreccio che coinvolge i temi dell'architettura stessa, dei materiali da costruzione, delle forme di produzione dell'energia, dei consumi, è una critica dei consumi che sono al centro del modello di sviluppo della società contemporanea, viene intrecciato con i temi dell'agricoltura e quindi del paesaggio, dell'attività umana, del lavoro umano, dell'artigianato, dell'uso degli strumenti. Diciamo che su questi temi rileggere oggi questi testi di Collingworth non è fare un'opera archeologica ma è trovare degli spunti fondamentali per il futuro.